Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Buonasera, buonasera amici radioascoltatori e un bentrovati su Radio Roma su 103.9 in questo sabato 24 febbraio 2007. Vi aspettavate chiaramente la voce suodente, suave, della bella e brava Valeria Arnaldi. Invece questa sera avete questa sorpresa dalle ore 16, ecco qui in diretta dopo tanti mesi, sono io appunto, Antonello De Pierro. Un saluto a tutti voi e grazie per esservi sintonizzati qui su Radio Roma. Come ho sempre detto e lo ripeto ancora questa volta, in questa occasione, grazie perché siete voi la parte principale di questa trasmissione perché in ogni forma di spettacolo il pubblico è la parte più importante perché senza del pubblico o qualsiasi forma non avrebbe motivo di esistere. E torniamo perciò ancora a sentirci appunto su questa, nel ledere romano, appunto si ripeto su 103.9 di Radio Roma, con una nuova puntata. Una puntata iniziamo questo ciclo di trasmissioni appunto condotte dal sottoscritto e che praticamente poi sarò, qualche volta vi lascerò lo stesso con Valeria, lo so che ne avete abituati, lo so questo. Valeria Stallira saluto. Innanzitutto vado a salutare, dall'altra parte del vetro, ormai una colonna portante appunto di questa trasmissione, il Max Giurastante appunto in cabina di regia e naturalmente il nostro editore, il dottor Alessandro Malatesta, che da 30 anni ormai compie sforzi in mani appunto per poter portare avanti questa radio che ormai fa parte della storia appunto dell'etere capitolino. Infatti proprio giorni fa stavo sfogliando un libro che è stato scritto proprio sulle radio e appunto Radio Roma aveva una parte molto importante, una parte principale. Comunque eccoci, ovviamente oggi parleremo di salute, di medicina. Tantissimi, sicuramente di voi che siete all'ascolto, soffrono di problemi alla schiena e alla colonna vertebrale. Adesso tutti quanti dicono, ah sì, sicuramente sì, ho questo doloretto, tutto quanto. E spesso non si sa cosa fare, perché uno si trova la mattina, è il cosiddetto colpo della strega, però spesso questo colpo della strega non è un fatto così sporadico, ma sicuramente implica un coinvolgimento meccanico appunto della colonna però spesso passa con gli antifiamatori, si va avanti, si va avanti, fino a quando non succede nuovamente e poi a lungo andare si rischia forse di compromettere poi in maniera irreversibile questa colonna quando invece magari con degli piccoli accorgimenti appunto posturali forse si sarebbe potuto intervenire prima e in qualche modo rimediare e scongiurare quello che magari potrà essere un problema poi invalidante in futuro. Oggi proprio in questa occasione appunto ho pensato di invitare un ospite, un ospite tra l'altro molto autorevole appunto in materia, un fisiatra che fa parte appunto di una struttura molto importante, fondamentale appunto per quanto riguarda questo tipo di patologie, che è il centro paraplegici di Ostia e il dottor Stefano Finucci che saluto qui alla mia destra, benvenuto, benvenuto a Radio Roma. Grazie. Prima o poi avremo dei collegamenti più tardi con Eleonora Vallone che tra l'altro si occupa tantissimi anni, l'attrice conduttrice e giornalista, anche una collega tra l'altro che si occupa tanti anni di nuoto appunto ginnastica in acqua vedremo poi i benefici appunto che può portare anche insieme al dottor Finucci questo tipo di attività. E poi ci sono, tanti parlano appunto della danza del ventre che a volte può essere consigliata o sconsigliata a seconda dei casi poi e avremo Tiziana Manenti, la dottoressa Tiziana Manenti appunto che è un medico oltre ad essere chiaramente una bravissima insegnante di danza del ventre che però fa per hobby, però insegna da tantissimi anni poi ne parleremo con lei. Io però prima di entrare nel vivo della trasmissione mi fermerei un attimo per intanzitutto proporvi una proposta per uno stacco musicale. Radio Roma al centro delle tue emozioni Radio Roma al centro delle tue emozioni Ed eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone di Luca Carboni appunto Silvia lo sai e più la nostra pubblicità chiaramente perché dobbiamo sopravvivere qui chiaramente a Radio Roma e torniamo ancora appunto in studio e entriamo proprio nel vivo della trasmissione del problema appunto che affligge tantissime persone penso come casistica, adesso lo facciamo quantificare al nostro dottor Stefano Finucci comunque cominciamo a parlare con il dottor Finucci innanzitutto partiamo dai consigli per l'uso proprio mettiamola così uno si alza una mattina, non ha mai sofferto di mal di schiena a un certo punto, a parte il piccolo acciacchetto penso che anche a dieci anni si abbia penso e resta bloccato con la schiena cosa è successo? allora normalmente c'è da dire che l'individuo che ha dolore della schiena prima volta ha già avuto in precedenza dei piccoli sintomi diciamo che hanno indicato una sofferenza in quella sede particolare in sede lombosacrale cosa è successo? normalmente il mal di schiena è dovuto a due fenomeni importanti o un dolore che è di natura prettamente muscolare oppure un dolore di tipo scheletrico cioè c'è quasi stata una lesione discale che ha interessato appunto la corona vertebrale in genere in sede lombosacrale soprattutto gli ultimi dischi intervertebrali L5S1 si chiama cioè l'ultima vertebra lombare la prima vertebra sacrale in genere più frequentemente sono quelli più interessati questi ultimi dischi e si è stata una compressione sul nervo per cui da qua ne deriva un dolore e una contrattura muscolare importante e questo per quanto riguarda però potrebbe anche non esserci un'implicazione del nervo del geno, più che del nervo, del disco e dal punto di vista scheletro soltanto magari uno strappo normale che viene curato e poi non dà più problemi per sé? certamente questa è una condizione anche molto frequente infatti diciamo che è necessario certamente fare delle indagini radiologiche anche piuttosto semplici per verificare qual è il problema di base non è detto che sia un problema di scale ma questo è un discorso tanto muscolare muscolo-scheletrico in questo caso bisogna fare uno studio posturale per verificare bene qual è il problema alla base del dolore e come praticamente uno da uno si trova questo mal di schiena cosa deve fare praticamente? allora innanzitutto rivolgersi a uno specialista possibilmente un fisiatra e fare uno studio della colore questo magari successivamente però proprio nel momento acuto si resta bloccato chiama il medico curante la prima cosa che fa sicuramente oppure come deve muoversi? allora innanzitutto nelle prime fasi diciamo che deve comprendere bene il paziente se si tratta di un dolore che se non ha mai avuto un dolore di questo tipo deve consultare un medico in ogni caso per comprendere se si tratta veramente di un mal di schiena e farsi visitare più rapidamente possibile se è un dolore che già conosce in precedenza in questo caso può prendere alcuni farmaci e soprattutto dei farmaci che tolgano il dolore ma che non abbiano un'azione lesiva nei confronti dell'apparato gastroenterio questo è un errore che si fa frequentemente e conviene sottolineare appunto questo aspetto ecco poniamo l'accento su questo discorso farmacologico perché spesso si abusa dei farmaci ma i farmaci a volte risolvono una cosa poi magari danno dei problemi poi in altre parti del nostro corpo chiaramente e poi c'è anche il discorso che si abusa del farmaco però il farmaco non sempre poi risolve il problema lo risolve a livello sintomatologico però se c'è un problema meccanico poi si ripresenta magari anche in forma più acuta sicuramente infatti ecco diciamo che l'approccio migliore potrebbe essere quello di risolvere temporaneamente con un farmaco la parte iniziale per dar luogo poi a uno studio che permetta successivamente di non fare uso più di farmaci antideorifici, antifiammatori comunque fare uno studio accurato della posturale intervire appunto meccanicamente sull'organismo per far sì che questo problema poi si possa ripresentare nel futuro diciamo in misura nettamente inferiore fino a scomparire addirittura come avviene anche frequentemente per chi è che fa degli esercizi corretti di riducazione posturale individuale e lei che farmaci prescrive generalmente cioè perché sono farmaci non lessivi per quanto riguarda il perciò non gastrolessivi ma diciamo perché generalmente uno dice ah ho mal di schiena prendo l'aulin io so che ne mesulite forse è la cosa più allora sì come principiattivo punto dell'aulin e di altri sì sì di altri farmaci diciamo ecco senza fare i nomi diciamo commerciali è opportuno dire che esistono le linee guida di varie nazioni comprese quella nostra linee guida americane eccetera che uno può consultare e si nota appunto come il farmaco di maggior utilizzo che viene consigliato nella forma di lombagia acuta è certamente il paracetamolo che è un farmaco che non ha un effetto di gastrolesività ma invece ha un effetto diciamo sicuramente efficace dal punto di vista del dolore che ci interessa maggiormente perché poi il dolore scotena altre contratture muscolari che possono essere altrettanto dolorose tra l'altro c'è un problema chiaramente poi di dosaggio di questo farmaco questo deve essere chiaramente monitorato da un medico però diciamo il farmaco di prima scelta da questo punto di vista viene considerato certamente il paracetamolo che sicuramente ha una situazione diciamo un'azione risolutiva diciamo a livello almeno dolorifico sintomatologico è un attimo